Ila non è diminutivo dell'aria, come potresti pensa te, anzi è il nome di un uomo, anche se st'uomo era l'amante d'Ercole, quindi uomo che va a cuomo, ma questo per i greci era normale e dovrebbe esserlo finalmente pure oggi, perché dopo più dei duemila anni che volevamo essere più aritrati di i greci? Non credo. Vero è che a volte una vede un bel pischello e poi scopre che è gay e allora rosica e dice carne sprecata, ma sprecata per noi femmine, no per chi so' gode, insomma l'importante è che uno o una so' contenti e finché due so' maggiorenni e so' d'accordo, viva l'amore. Però pedì che siccome Ila erano gnocco da paura, se vanno pure capì ste ninfe che stanno se ne ammollo nell'acqua tutto il tempo, oltre a veniglie e porpastrelli a spugnetta, se rompevano pure li zebbe dei, e vedendo sto bono di Ila che si specchia nel lago, udirano giù e so' portano via. Poro e Ercole, quanto ci rimase male. Si mise pure a piagne. Eppure questo per i greci era ok, che perfino a chi le piagne quando gli ammazzano l'amico patroclo. Quindi è ok a na' omo e omo, o donna e donna, e è ok per l'omini dei piagne. Vedi quant'erano avanti i greci? Ma torniamo a Waterhouse, che non era greco, era inglese, che pure gli inglesi hanno un problema col fatto di poter piagne o esprime sentimenti in pubblico, ma questo in generale, omo e donna, vabbè, non andammo fuori tema. Waterhouse era un simbolista, e un sacco di volte usa il simbolo dell'acqua insieme a figura femminile come qua. Mo' l'acqua è un simbolo de' vida, che senza l'acqua non se po' vive, anzi, a vita si è proprio sviluppata dentro l'acqua inizialmente, ma pure un simbolo de' morte, che si via un maremoto, uno tsunami, oppure una tempesta, mentre che sta in barca, cazzi tua. Quindi, senza beve non se po' sta', ma manco sott'acqua senza respirà, insomma, come te metti sbagli. E così, puro a donna, che in teoria è un simbolo de' vita, dato sì che partorisce li regazzini, cura e nutre, eccetera, eccetera. Però all'omo, forse proprio per questo, gli fa un pochetto paura, perché c'ha un potere che non se può controllà. A donna fatale, quella che te fa partì a brocca che diventi scemo, a madre possessiva che te rompe i coglioni fino a sfinimento, e qui ste ninfe sono un po' come i sirene d'ulisse, belle e affascinanti, ma infine, te dice Waterhouse, meglio starci lontano. Ma per fortuna Waterhouse ha dipinto in un altro quadro pure la povera Ophelia, che per costruzzo di amleto è impazzita, e nell'acqua ci si è buttata e ci è affogata. Quindi vedi che l'acqua non è né maschio né femmina, e nemmeno l'amore, e purtroppo nemmeno ha a morte, che ci fa tutti uguali. Grazie.